Grazie a tutti. La tua chiesa pellegrina della fede hai dato in Maria Vergine l'immagine della futura gloria concede ai tuoi fedeli che ti presentano questa icona di poter sempre alzare gli occhi con fiducia verso di lei, fulgito modello di virtù per tutto il popolo degli eletti. Per Cristo nostro Signore. E viva Maria!